Roberto, Lisbona è una città molto giovane, come mai ti piace per questo? Beh, adesso è molto giovane, è una città con una storia immensa a Lisbona. È in piccolo quello che è stata l'Italia, che ha subito dominazioni culture, eccetera, eccetera. Quando vado a Lisbona e chiacchiero con la gente, con gli studenti, se ci vado ci vado anche per gli studenti, e mi piace questa pulizia di pensiero che hanno. Sono tutti un po' nipotini di Pessoa loro, Pessoa è un idolo, monumento in piazza, anche perché Pessoa esula dalla cultura portoghese, non è solo portoghese, era futurista, era classicista. C'è molto Pessoa nei tuoi testi, in te? Sì, c'è moltissimo, perché Pessoa, se qualcuno lo conosce, sarebbe il caso subito di andare a comprare le bellissime traduzioni di Tabucchi, perché Pessoa è il novecento. C'è un po' anche nel loro animo, nel loro essere, questa vena sempre un po' triste, malinconica, un po' la saudade, che è diversa dalla saudage, sì, che si sente anche tanto nel fado, nelle taverne, nelle case du fado. Tu ci sei stato? Conosco le taverne di Lisbona come conosco le taverne di Valencia, di Madrid, di tante, di quelle parti dell'Occidente e dell'Europa. Questo tipo di malinconia, che viene dal nostro, da una tristezza antica, di un posto mai raggiunto, per cui continuano a partire per tornare, questa malinconia diventa anche quasi allegra, a un certo punto. Noi non conosciamo questo sentimento, noi italiani. Professore, il fatto che gli studenti abbiano anche questa vena goliardica molto forte, per cui, insomma, quando c'è l'apertura e la chiusura dell'anno accademico, ci sono delle feste incredibili a Lisbona. Tu come lo vedi? I giovani hanno grandissime speranze, grandissime gioie. Quando è stato abbattuto Salazar è cominciato un'epoca di grande speranza in Portogallo, di ricostruzione che continua adesso e soprattutto di molto ottimismo. Nonostante la crisi, anche adesso sono molto ottimisti loro. La crisi europea è di tutti. Certo. Lisbona fa parte di una nazione che è unica nella storia dell'Europa, perché praticamente è tutta sul mare. La Lisbona è antichissima. Addirittura potrebbe essere stata fondata da Ulisse o dai Fenici, Alissiba, che significa porto, grande porto, bel porto. È stata poi cambiata nel nome attuale dagli arabi, perché ha avuto anche questa dominazione araba, che l'ha chiamata El Lisbona, come è chiamata oggi. Ma di per sé la nazione è fiorita sempre su questo progredire di tribù che sono diventate improvvisamente padrone del mare che avevano davanti. E quindi è il mare la dimensione di Tritone.